Allora spero che sia pronto anche il collegamento, questo è la croce delizia dei collegamenti con il direttore Corriere della Sera Luciano Fontana, per gli altri direttori che sono tutti qui li vedete, sono anche tutti volti noti e li presenteremo poi man mano entrando nel vivo del nostro dibattito che ha nella questione destra-sinistra un punto di partenza e poi da lì snoderemo il nostro discorso, i nostri ragionamenti e arriveremo all'attualità che è molto stringente anche perché oggi è comunque una giornata di dinamismo diciamo almeno verbale, di dichiarazioni, è tornato a parlare il Presidente del Consiglio Conte dopo questo silenzio di alcune settimane. Però sto al tema perché mi sembra importante, destra e sinistra ci hanno lasciato, come dire, ci siamo lasciati due anni fa con la lettura, l'analisi che fossero superate da una contrapposizione populismo e sistema, oppure populismo che assimilava due anni fa fino alla crisi, allo strappo, fino all'anno scorso allo strappo di Salvini, Lega e 5 Stelle, quindi li teneva insieme e gli altri con la crisi dell'ordine liberale e poi tutto lo scenario internazionale di cui faremo riferimento. Che cosa è successo oggi quando ci troviamo in una situazione in cui invece sembra recuperato perché c'è una coalizione di centrodestra che c'è, si presenta tra l'altro alle elezioni regionali il 20 e 21 settembre, un governo giallorosso, sempre lo stesso Premier però, e in questo schema apparentemente di ritorno e riaffermazione del bipolarismo però si torna al proporzionale, si invoca il ritorno al proporzionale. Ecco, questo è il contesto e comincerei da qui per dire se allora ha ancora senso, in che senso si può parlare destra e sinistra, che cosa, quali sono davvero le differenze, sono nella politica economica, sono nei migranti, sono, non lo so, Massimo Giannini darei la parola per prima al direttore della stampa per ragioni territoriali, come dire. Grazie, grazie Alessandra, grazie a tutti, buongiorno, buon pomeriggio. Il tema destra e sinistra ce lo portiamo dietro da Giorgio Gabber, insomma. Io personalmente non mi sono mai lasciato ammaliare dal canto delle sirene che fino a un paio d'anni fa, due tre anni fa, ci volevano far credere che questo dualismo, questa dicotomia fosse ormai superata e appartenesse agli armadi della storia. Personalmente, ripeto, non ci ho mai creduto, so che è stata una tendenza potente. Quello che ho notato e che noto tuttora in chi continua a pensare che le differenze non ci siano è che la tendenza a leggere i fatti della modernità, cercando di superare queste categorie ideologiche che vengono considerate novecentesche, nasce soprattutto a sinistra. La prima riflessione che vorrei fare è esattamente questa, e più che una riflessione è una suggestione che vi rimando. Se ci fate caso, tutti coloro che tendenzialmente avanzano l'ipotesi o la certezza che destra e sinistra siano categorie superate, vengono dalla sinistra. Non ho mai sentito un solo esponente o un solo pensatore della destra che afferma questo principio. Poi, magari mi sbaglio, magari voi pensandoci ne trovate qualcuno, io non lo trovo. La prima domanda che dobbiamo farci forse è proprio questa, perché? Come mai? Che cosa ci dice questa differenza, diciamo così, genetica dal punto di vista valoriale e culturale? Chi è di destra sa bene che cosa è, chi è di destra sa bene che cosa è, cioè quali principi rivendica, adesso la metto prima sul piano nobile, poi volendo possiamo scendere ai piani più bassi, da quali istinti si fa guidare e sulla base di quello dice la sua. Non ho mai sentito uno di destra dire che destra e sinistra non esistono più, semmai dice la sinistra ammazza il paese, la sinistra distrugge tutto quello in cui stiamo credendo. A sinistra succede invece curiosamente, da qualche anno, un processo diverso, perché quelli stessi che vengono dalla sinistra o che alla sinistra sono approdati per vie molto traverse, per esempio l'uscito sempre polemica, ma un teorico convinto del superamento di queste due categorie è stato Matteo Renzi, che non viene dalla sinistra, però la sinistra approda, appunto, stando a sinistra dice che la sinistra è uguale alla destra, o meglio, che queste categorie appartengono al passato. Secondo me questo già ci dice una cosa, e cioè che il problema della declinazione dei valori, dei principi che reggono il nostro sistema democratico, il nostro sistema sociale, il nostro sistema economico, si produce e deflagra come crisi a sinistra e non a destra, perché la destra non è cambiata, non cambia, si può diventare più radicale, più estrema, nazionalista, populista, lo ricordavi tu, sovranista, però al fondo l'idea è sempre la stessa, no? Libertà individuali, lo ricordavamo prima con Mario parlando del, ecco, come ci mettiamo, giacca senza giacca, cravatta senza cravatta e la casa delle libertà, vi ricordate, era mi pare, era mi pare, Avanzi, c'è Andrea che sulla televisione, era Rai 3, era la sua Rai 3, grandissimo, e beh c'era quella gag in cui si vedevano tutti questi che ballavano, erano gli anni d'oro del berlusconismo e c'era sotto la scritta la casa delle libertà e il sottotitolo è facciamo un po' come cazzo ci pare, scusate la parola, ecco, fondamentalmente, ripeto, adesso sto molto volgarizzando ed estremizzando perché c'è anche una destra nobile, il problema è che noi in Italia non l'abbiamo mai conosciuta, l'anomalia italiana nasce soprattutto da qui, a parte l'esperienza della democrazia cristiana che era un'altra cosa, perché è un partito che si è fatto stato, era di destra, era tutto, la democrazia cristiana era tutto, ma noi una destra liberale, repubblicana, costituzionale non ce l'abbiamo mai avuta e quindi fondamentalmente, diciamo, l'approccio della destra è improntato a questo grande senso dell'individualità, della suddetta libertà variamente declinata e se vogliamo ripescare categorie, queste sì novecentesche, ma credo più attuali che mai teorizzate da Bobbio, una scarsa attenzione ai temi dell'uguaglianza e dei diritti, cosa che invece a sinistra secondo me dovrebbe continuare ad essere la chiave fondamentale per declinare tutto quello che ci succede intorno. Penso, ecco, se facciamo la storia di questi ultimi due o tre anni, che nel dolore e nella preoccupazione per tutto quello che è successo e che sta succedendo, il covid dal punto di vista politico, culturale e valoriale ha avuto suo malgrado questo merito e cioè ha spazzato via, secondo me per come la vedo io, questa malintesa idea del superamento delle vecchie culture e ha riproposto in maniera drammatica i temi fondamentali sui quali la sinistra soprattutto dovrebbe interrogarsi e dovrebbe stare in campo e cioè, come dicevo, i diritti, il ruolo dello Stato, come lo Stato si occupa della salute fisica, sociale ed economica dei cittadini, come si sostiene un sistema sanitario che non può essere affidato soltanto o alla compassione del capitalismo, come è successo per lunghi tratti negli Stati Uniti, oppure al censo, chi ha di più si cura dove gli pare e gli altri vadano dove vogliono. Ecco, il covid da questo punto di vista è stato lì sì, non tanto purtroppo sulla conta delle vittime, ma una sorta di pettine, come l'ho definito, che ha solcato la carne viva non soltanto del nostro paese, ma di tutto il mondo, per ricordarci i valori fondamentali e per stabilire una cesura, chi sta di qua, chi sta di là. Di fronte al covid noi abbiamo visto riemergere con forza partiti, leader, che hanno una certa idea delle istituzioni, della politica e del rapporto tra Stato e cittadini. Trump è destra, Bolsonaro è destra, Orban è destra e tutto questo è venuto fuori con una chiarezza, a mio parere, estrema e per di più, se vogliamo andare a vedere, anche plastica, cioè proprio quelle formazioni politiche e quei leader che si sono sempre ispirati ai valori che dicevo prima, cioè appunto una sorta di malintesa idea di libertà e di individualismo, hanno fatto pagare, stanno facendo pagare in modo purtroppo più doloroso ai propri cittadini il costo di questa terribile pandemia, cioè la vecchia Europa tanto esecrata alla fine nei suoi paesi fondatori, soprattutto quelli delle grandi famiglie politiche tradizionali del nostro novecento, si è difesa meglio che altri paesi. La vecchia Europa è fondata sul grande patto sociale anche quando governano i conservatori, prendiamo la Germania dove pure oggi c'è una grossa coalizione, ma insomma è chiaramente attrazione tra virgolette conservatrice, anche se la Merkel ormai ha più le fattezze della vecchia democrazia cristiana italiana, però ha reagito meglio, si è difesa meglio, secondo me per questo motivo, perché quei valori di cui parlava Bobbio, noi sappiamo farli vivere di più, sappiamo farli vivere meglio e in una sinistra consapevole di se stessa e del suo ruolo e che non si illude appunto, che non crede soltanto per intercettare il cosiddetto voto moderato che le differenze non ci siano più, persegue. Naturalmente le rielabora, le modernizza, ma le persegue, difende, le presidia. Ultima cosa che dico sull'Italia, la stessa cosa vale un po' anche nel nostro paese, io credo, perché anche nel nostro paese per troppo tempo abbiamo creduto che le differenze non ci fossero più. Oggi fai bene tu a ricordarlo e magari sarà un aspetto che approfondiremo dopo, siamo in presenza di una grandissima confusione perché i segnali che ci spingono verso il ritorno di un bipolarismo secondo me sano, perché l'implosione dei 5 stelle questo sta producendo, perché diciamolo pure, la leva che ci ha fatto pensare che fosse finito il vecchio assetto novecentesco è stata l'affermazione di una terza forza che diceva di non essere né di destra né di sinistra. Abbiamo visto che fine sta facendo. Adesso siamo qui, non solo noi direttori di giornali, opinionisti, editorialisti, intellettuali, a chiedere ai 5 stelle dovete dire da che parte state, perché giocare sull'ambiguità non è più consentito. E' però costruire un sistema dove invece le alleanze saranno definite dopo. Ecco, infatti la confusione è questa. Tutto questo succede mentre si dice vogliamo il proporzionale, che è l'esatto contrario. Allora, io vorrei andare a questo punto, proprio in ragione delle cose che dicevi Massimo, da Mario Secchi, che ha diretto delle testate di destra e che forse può rispondere a questa domanda la destra lo sa? Cos'è? E quello che noi definiamo bipolarismo, non so, è un bipolarismo, come dire, anche una tendenza a un bipolarismo reale o è una specie di illusione ottica data dal fatto che c'è Salvini, così come c'è stato Berlusconi, cioè che in realtà c'è un perno intorno al quale o pro o contro, quindi un sistema che si definisce, si autodefinisce per bloccare Salvini. Questa è un po', come dire, è la scorciatoia fra destra e sinistra, direttore dell'agenzia Agi. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie. Ho già ascoltato con interesse le cose che ha detto Massimo, con il 90% delle quali ovviamente non sono d'accordo, ma no, non è vero, un po' meno, un'ottanta. No, allora, partiamo da alcune cose che ha detto, la consapevolezza della destra e della sinistra. E sì, c'è, nel senso che la destra non ha il problema dell'autodefinizione. La sinistra ce l'ha, per ragioni anche storiche, se vuoi, per una crisi meno elaborata. In fondo noi veniamo dalla fine del secolo breve, del Novecento, in cui si è sfiammata la grande illusione del comunismo. E da allora, se vogliamo andare alle radici, come abbiamo fatto, questa identità si è sempre più diluita. La domanda, in termini giornalistici, sarebbe che cosa è oggi il PD. Se qualcuno sa rispondere, io gli do volentieri un premio, voglio dire. No, lo facciamo subito dottore con l'ode. Ora, nessuno sa oggi come si autodefinisce la sinistra. Sappiamo che cosa è la destra, nelle sue declinazioni buone e in quelle che non funzionano. Ma d'altronde il buono e il cattivo albergano ovunque, questo è abbastanza evidente. La separazione tra categorie, diciamo così, spaziali della politica, la divisione tra destra e sinistra è una comodità di tipo spaziale. Sai che cosa c'è da una parte, sai che cosa c'è dall'altra. In teoria dovrebbe esserci anche qualcosa al centro. Cosa che invece noi non abbiamo visto finora, se non in maniera marginale. Perché tutti cercano di occupare un po' la destra, un po' la sinistra e anche il centro. Il centro serve a legittimarsi, ma in realtà noi viviamo in un'epoca che è fortemente polarizzata. In che cosa crede la destra? Un tempo si diceva Dio, patria, famiglia. Però se noi andiamo a vedere esattamente Dio... Pure la Meloni l'ha ridetto. Sì, loro dicono quello che vogliono ovviamente, però poi andiamo a vedere la sostanza. Dio, insomma, sì, ognuno di noi ci crede, ma non è un motore politico. Altrimenti la democrazia cristiana, che era un partito che si basava su quel tipo di cultura, sarebbe continuata a esistere. Invece no, noi siamo in una società secolarizzata, dunque il motore della fede e della religione non c'è in quanto tale. Anzi, uno dei problemi dell'uomo contemporaneo, fin dai tempi del grande romanzo di Cervantes, è quello di aver perso il baricentro di Dio. Quindi Dio non c'è. La patria. Ecco, qui già abbiamo qualcosa di più reale, perché si lega a una parola chiave che è territorio, che si lega a un'altra parola chiave che è radici, che si lega ad un'altra parola chiave che è identità, che si lega ulteriormente ad un'altra parola chiave che è comunità, che si lega ad un'ultima, fondamentale, imprescindibile parola che è io, e noi, e voi. La patria c'è ancora. Perché non è intesa tanto come confine, è qui che Salvini la declina male per assenza di riflessione culturale sotto. Non è un confine, è qualcosa di più, è un'identità. Tutti noi siamo, chi più, chi meno, di destra, di sinistra e di centro, patrioti. Perché è il territorio dove siamo nati, è il luogo dove vivi. È quello che nella filosofia si chiama l'essere, e cioè il tuo spazio vitale. E quindi la patria resiste. La famiglia. La famiglia è molto interessante, perché la famiglia italiana continua ad essere un nucleo molto forte. Però indebolita, disgregata, smaterializzata nel paradosso dell'abbondanza di materialismo. Sembro quasi marxista. E in questo dissidio che c'è sulla famiglia, cioè sulla sua centralità comunque, ma anche sulla sua disgregazione, in ogni caso diciamo che la destra ha ancora un gancio. E allora però, se Dio è morto, perché poi di questo si tratta, se il baricentro della fede non c'è più, e quindi se non ci può essere un grande centro d'attrazione, un grande magnete, una grande stella intorno alla quale ruotano gli altri pianeti, come era la democrazia cristiana e quindi la costruzione di un sistema, come si regge? Con che cosa è sostituita? Viene sostituita da un fenomeno che viene dipinto come nuovo, ma nuovo non è. E cioè da un altruismo, da un populismo che sta a destra e che sta a sinistra. E che solletica ragiona, tra virgolette ragiona, diciamo evoca la possibilità per l'uomo in rivolta, che non al caso è un libro dell'esistenzialista Camus, per l'uomo in rivolta di destra e di sinistra, perché è una radice che è presente in tutti e due gli schieramenti ideali che stiamo analizzando, la possibilità di che cosa? Di riscatto. Che cosa era Dio? Dio era la promessa del riscatto ultraterreno. Che cosa è la pulsione populista? È la promessa del riscatto terreno. Ti do qui quello che non puoi più avere lassù, perché il lassù è svanito. Te lo do io, te lo prometto io, te lo faccio avere subito io. Ovviamente siamo nel campo delle illusioni, per estremizzare senza voler toccare il credo di nessuno. Io sono un credente, diciamo ho un rapporto mio personale con il Signore, mettiamola così. Ma quando Dio è morto e tu non hai più il riscatto, l'uomo è smarrito e ha bisogno di trovare qualcosa in terra. Tutte le società dove non si credeva, pensate al sistema cinese, prima di riscoprire non a caso il confucianesimo con Xi Jinping, perché riscoprono il confucianesimo? Perché hanno bisogno di qualcosa in cui credere alla fine. Avevano la chiesa del partito. Morto tutto questo, vengono di nuovo fuori gli ismi. Gli ismi servono a colmare la pulsione, il desiderio di realizzazione. Aggiungo che questo desiderio di realizzazione, quindi la destra è più definita della sinistra, se vogliamo, perché la sinistra non ha ancora trovato il modo per riempire il vuoto che si è creato quando ha perso sostanzialmente il suo credo. Su questo in realtà stai dando ragione a Massimo Giannini. Certo, è il 20% a cui io do ragione, nel senso che, e chiudo, poi magari lo riprendiamo, perché è un discorso che merita una riflessione ampia. Cioè, qua è successo che si è recuperato un po' del vecchio e gli si è innestato qualcosa che non c'era prima, che sono i tempi accelerati. C'è un bellissimo libro di Hartmut Rosa che si chiama Social Acceleration, e te la voto anche in italiano, che spiega benissimo che cosa è successo negli anni della contemporaneità iperconnessa, per cui tutto quello che facciamo è compresso, accelerato, intenso e ha bisogno di essere soddisfatto subito. E se ci pensate il populismo è questo, che si contrappone, per ultimo proprio e così via, allo spossessamento delle idee e della volontà, che è fatto da che cosa? Dall'elevazione della tecnica, e guarda caso dall'esaltazione del manager nella società, pensate, chi ci doveva risolvere tutti i problemi con il Covid a noi? Colao, che ovviamente non ha risolto niente perché la politica alla fine se lo è mangiato, no? Capito? Allora, questi qua sono i veri temi. Il PD, perché la sinistra è quella e i 5 Stelle sono una cosa ancora tutta definibile, ha questo dilemma, riempire di significato il proprio spazio. Forse, e do la parola a Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, una parte di dilemma, dei tanti dilemmi che abbiamo sentito già in questi primi interventi, però per un partito di sinistra, come può essere il PD è proprio questo, cioè il populismo è di destra e si batte con un populismo di sinistra, che è un po' il dilemma forse che hanno anche negli Stati Uniti, no? I democratici americani anche, o che hanno avuto e che in parte anche hanno, tenere insieme un populismo di sinistra e invece altro, ammesso che questo altro abbia ancora cittadinanza, perché poi c'è un terreno nel quale le differenze sembrano perdersi. Qui torno invece proprio alla cronaca italiana, se guardiamo alle pulsioni stataliste che accomunano la destra e la sinistra, questioni che un tempo il taglio delle tasse era solo della destra, adesso è un governo giallorosso che vuole tagliare queste tasse. I migranti sono una bandiera sicuramente ideologica, importante, in questo caso ideologico lo dico nel senso migliore della parola, ma nella concretezza nessuno ha cambiato le leggi fatte dal governo giallo-verde, sono ancora lì e tutti hanno paura di toccarle, quindi hanno paura di un consenso. Allora inserirei questi elementi, diciamo, populismo di destra e di sinistra, populismo antipopulismo e il tema delle differenze. Grazie Alessandra, grazie al Festival di Dogliani per questo invito, grazie a Dogliani per essere qui, è molto bello tornare in una città che sento a me così vicina, per molte ragioni, a cominciare dai naudi, ma la cosa più bella di questa piazza è il senso civico che rappresenta. Guardate, io stavo guardando mentre i colleghi parlavano, mi ha ricordato l'immagine di Repubblica delle Idee a Bologna, e altri incontri che ho avuto il privilegio di fare in più città d'Italia, nel nostro paese si respira un grande senso civico. Questa piazza è colma nel rispetto delle distanze sociali, delle regole della sfida e della convivenza con il Covid, ed è molto bello andare in posti diversi del nostro paese e trovare questo stesso senso di appartenenza, di volontà di partecipare, ma nel rispetto della nuova stagione che stiamo vivendo. Quindi grazie d'Oriani. Il punto però, per la tua risposta, è che sempre dalla pandemia partiamo. La pandemia è un evento di drammatica rottura. Non è la prima pandemia che noi abbiamo vissuto dall'inizio del secolo, ma è quella che tocca di più la nostra sicurezza. Il terrorismo è stata una pandemia, l'abbiamo scoperto l'11 settembre, c'erano stati i sintomi prima e non li avevamo compresi, e il mondo ha dovuto reagire alla sfida subita. La crisi finanziaria del 2008 è stata una pandemia, lì dove pandemia significa un fenomeno che coinvolge l'intero pianeta. C'erano stati dei sintomi, non erano stati compresi, e la crisi finanziaria ha coinvolto l'intero pianeta. Adesso noi siamo alla terza pandemia, ma qui tocca la sanità, la salute, il bene di ogni singolo abitante del pianeta. Quando la pandemia Covid arriva nel nostro paese, la prima vera vittima politica è la grande emozione che aveva generato il voto del marzo del 2018. L'analisi sul populismo fatta l'indomani del marzo del 2018, ne abbiamo parlato anche spesso assieme, di un paese che si trasforma attraverso la necessità di identificarsi con forze della protesta, perché i partiti tradizionali avevano perso il contatto con il ceto medio, sui migranti, sulle diseguaglianze, sulla corruzione. E improvvisamente, con la pandemia, l'argomento cambia. Il pericolo da cui difendersi incomincia a essere la sicurezza personale e serve una ricetta collettiva. Guardate, le pandemie sono un fenomeno diverso dagli altri fenomeni politici o collettivi. Perché la risposta non può essere di destra o di sinistra. La risposta al terrorismo non è di destra o di sinistra. Il terrorismo si combatte. La risposta alla crisi finanziaria non è di destra o di sinistra. Servono delle regole che proteggono chi investe e chi consuma. Di fronte alla pandemia sanitaria che noi abbiamo a che fare, noi ci dobbiamo adattare il nostro sistema di valori personali, come questa piazza dimostra, ma anche attenzione di priorità politiche, di linguaggio della politica, di dinamica fra i partiti politici. Si deve adattare a quello che sta avvenendo, perché coinvolge la totalità degli abitanti del Paese. Se prima c'erano grandi emozioni per i migranti, perché adesso la popolarità di Salvini scende rispetto a quella di Zaia? Perché Zaia ha amministrato bene il Veneto in una fase drammatica di guerra contro un nemico invisibile e Salvini non c'era. Salvini continua a parlare di migranti che sicuramente è un tema cruciale e importante da affrontare, ma nella scala delle priorità di fronte a un'emergenza come la pandemia Salvini non si è adattato alla pandemia e dunque subisce l'impatto della pandemia. Attenzione. A sinistra è la stessa dinamica. Chi va su? Va su Bonaccini. Bonaccini ha gestito molto bene il territorio. Obiettivamente in una fase drammatica è difficile. Il PD come partito ha affrontato la pandemia. È un interrogativo che il PD si deve porre. Si è adattato alla pandemia o in realtà ha lasciato la gestione ai governatori? E quindi sono i governatori quelli che rappresentano il territorio che sono stati più vicini e più efficaci. Guardate De Luca in campagna, ci può piacere o no, ma è stato efficace nel dare la percezione ai residenti della campagna che li stava proteggendo. Allora il punto non è destra e sinistra. Il problema è, di fronte alla pandemia, chi comprende la pandemia? Chi comprende che la nostra vita cambia e sa adattare le proprie idee politiche di destra e di sinistra che siano ai nuovi bisogni dei singoli? Questo è un interrogativo. Questo è il nuovo interrogativo attorno al quale le forze politiche in Italia ma anche negli Stati Uniti si stanno confrontando. Ecco, volevo proprio arrivare qua. Perché Trump rischia di perdere le elezioni? Sarà sicuramente un testa a testa fino all'ultimo voto, ma la realtà vera è che lui rischia di perdere le elezioni. Qual è l'errore strategico che lui ha commesso? Non si è adattato alla pandemia. Di fronte alla pandemia, lui cosa ha detto? Io sono il comandante in capo degli Stati Uniti e mi occupo solamente delle questioni federali e la pandemia è un tema locale se ne occupassero i governatori. Il risultato qual è? Che il prestigio dei governatori sale e lui ha perso un presidente degli Stati Uniti che non difende i cittadini. Questo è l'errore strategico che lui ha commesso. Il problema, attenzione, è che anche Biden ha reagito in maniera molto debole alla pandemia. Se i democratici avessero candidato a Andrew Clomo, non ci sarebbe stata partita. Andrew Clomo, governatore dello Stato di New York, probabilmente avrebbe vinto con grande facilità. Perché? Perché l'attenzione è per chi ha fatto cosa contro la pandemia. E qui vengo però alla tua domanda che secondo me è cruciale nella ridefinizione della sinistra e anche del PD sui nuovi temi. Se bisogna adattarsi alla pandemia, il tema centrale è la sanità. Come giustamente prima diceva Massimo Giannini, allora il punto è la necessità di ridefinire il bilancio dello Stato attorno alla sanità. Ora, noi sappiamo che nessuna democrazia avanzata ha risorse a sufficienza per garantire la sanità, la copertura sanitaria totale ai suoi abitanti. Semplicemente non ci sono le risorse. Allora è un interrogativo che ha a che vedere su come decliniamo lo Stato sociale nel 2020 alla luce della pandemia per proteggere la salute dei cittadini. È molto facile dire non c'è una soluzione ma quando si vivono le stagioni rivoluzionarie si devono affrontare problemi che non hanno soluzioni. Da qui, secondo me, l'attenzione per tutti coloro che in questa fase stanno affrontando questo tema, ovvero la necessità di trovare le risorse per garantire nuove protezioni sociali al centro medio di fronte ai nuovi pericoli. E attenzione perché in realtà molto distanti fra loro come il Business Roundtable che riunisce i più grandi imprenditori americani che circa un anno e mezzo fa ha fatto un manifesto, cioè le grandi corporation americane hanno fatto un grande manifesto per dire sostanzialmente che la priorità delle aziende, delle grandi corporation deve essere non il profitto ma il benessere dei consumatori. Attenzione. È una persona, diciamo, di matrice culturale molto diversa dal Business Roundtable come Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle che dice alla festa dell'unità che serve un nuovo patto fra imprese e Stato per garantire lo Stato sociale. Questo significa che di fronte allo shock della pandemia alla necessità di trovare una nuova ricetta contro le diseguaglianze persone e valori molto distanti obiettivamente sono obbligati a seguire una via nuova e rivoluzionaria. E io credo che per noi come giornalisti sia assolutamente emozionante raccontare questa stagione. Grazie a Maurizio Molinari. Allora, su questo e se, diciamo, se è la pandemia comunque diciamo l'evento questo è un po' emerso da tutti gli interventi naturalmente che la pandemia è quella che fa ridefinire le cose ma è destra e sinistra si rimoduleranno o si chiameranno in altro modo saranno, vado dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana è la rielaborazione diciamo del sistema di protezione sociale sarà quella la linea di faglia e comunque dal passato ci sono degli schemi che possono essere recuperati o delle, come dire o dei profili identitari rispetto al modo in cui verrà approcciato questa ridefinizione del sistema delle protezioni che però per adesso diciamo poi tradotto nella polemica spicciola italiana in realtà è tutto un dire attenzione noi sussidi di dare a tutti non licenziare prolungare il blocco dei licenziamenti cioè non so se c'è questo sguardo lungo e questa diciamo è la consapevolezza di quello che diceva prima Maurizio Molinari che è in gioco una ridefinizione molto più forse radicale intanto buonasera a tutti e grazie a Doiani per questo nuovo appuntamento che è sempre molto interessante vivace qualche volta anticipatorio di quello che accadrà nella nostra politica nella nostra società io ho sentito già tante cose su cui in larvissima parte sono d'accordo soprattutto nella definizione dell'identità e quindi cercherei di essere un po' schematico su alcuni punti e rispondere alle domande che facevi la prima questione è possibile tornare ai vecchi schemi ai vecchi schemi di una di una destra e sinistra che abbiamo conosciuto nel passato a uno schema che ha una faglia di rottura un momento di rottura che è sicuramente questo della pandemia ma ne ha avuto un altro altrettanto rilevante che è stato quello delle ultime per quello che riguarda l'Italia gli ultimi due punti elettorale con l'avanzata prepotente di quelle forze che tra piccolette chiamiamo populiste di destra e di sinistra io penso proprio di no e quello che sta accadendo nella definizione dell'alleanza della presunta alleanza del nuovo centro-sinistra lo sta dimostrando il governo che è nato l'anno scorso un governo che è nato soprattutto per una convenienza una convenienza del momento non andare alle elezioni fermare la possibile vittoria di Salvini è un governo che si è fermato poco più là di questo punto cioè fermare cercare di bloccare Salvini non andare alle elezioni la costruzione di quello che Zingaretti ricordate era il centro-sinistra aveva indicato anche in Conte il possibile federatore delle tante anime mi sembra che non faccia nessun passo avanti sia nella definizione dell'identità sia nella definizione della leadership e soprattutto nella definizione di un programma e di un piano comune ognuno va per sé c'è una grande confusione nel campo del centro-sinistra dove esiste al di là dell'identità del PD a ragione segri che ancora è un po' difficile anche Giannini è un po' da definire completamente ma sicuramente nel movimento 5 Stelle che è un partito in cui la convivenza di una radice originaria che ha tantissime caratteristiche del populismo di destra pensate a tutte le battaglie anti-cassa le battaglie contro la politica contro la corruzione contro la riduzione dei parlamentari per il rapporto diretto con i cittadini con questa idea della politica che è specchio e immagine della gente tra virgolette e che in ogni caso deve dare risposte immediati alle pulsioni dell'istante che vengono dalla società tutto questo è assolutamente il contrario della costruzione di una prospettiva di un programma comune dell'elaborazione di una coalizione di un'eventuale coalizione della nuova sinistra che all'orizzonte ancora non vedo quindi questo è il primo punto questa compresenza e si vede chiaramente anche dai temi che pone il governo sull'immigrazione non riesce non riesce a fare un passo avanti rispetto a quello che era stato definito nel precedente governo nel modo di affrontare non tanto l'emergenza sanitaria su questo dico qualcosa subito dopo ma la costruzione di una politica economica realista improntata alla crescita che ci faccia uscire da questa fase molto pesante che stiamo affrontando come vedete lo ripetevi e lo ricordavi tu è fatto per il momento di tantissimi sussidi tantissime risposte alle esigenze molteplici spesso giuste della società senza la costruzione di quei 4-5 punti fondamentali che possono rimettere il paese in moto che siano basati sul merito sull'innovazione sull'istituzione sulla competenza sul ruolo delle imprese tutto questo non c'è è difficile da costruire per il momento abbiamo come orizzonte una repubblica tra dei sussidi che certamente non può essere la definizione dell'identità della sinistra da questo punto di vista naturalmente la destra dal punto di vista dell'identità è più forte è una destra nuova è una destra che ha affrontato molto male in tantissimi paesi del mondo lo ricordava Molinari l'emergenza sanitaria ma alcuni punti di riferimento ben definiti e che probabilmente quando questo passaggio sarà finito io credo che prima o poi finirà perché le nostre società la nostra scienza la nostra capacità di innovazione troveranno sicuramente un modo per curare anche questo virus e per proteggere la popolazione alla fine ritorneranno alcuni punti che non scompaiono non solo scomparsi dall'orizzonte e resteranno il punto della sicurezza che è stato ricordato quello dell'immigrazione e soprattutto il tema dell'identità nazionale e la pulsione anti-globalizzazione che caratterizza la destra se c'è un punto fondamentale che ogni partito di destra anche nelle diverse conformazioni ha è questa idea nazionale di chiusura e di difesa del territorio che è il vero punto forte della definizione dell'identità della destra e questo non sparirà perché i temi della globalizzazione resteranno in campo come resteranno in campo quelle delle diseguaglianze quindi un vecchio ritorno alle definizioni di destra e sinistra classiche che questa pandemia potrebbe restituirci io veramente non lo vedo non lo vedo all'orizzonte quello che vedo all'orizzonte è e forse questo è un elemento positivo è un po' la scomparsa di un tipo o la il declino la difficoltà di un tipo di leader che abbiamo avuto abbiamo avuto negli ultimi anni il leader che parla alla pancia della gente che si alza e mangia la nutella come noi che vuole essere esattamente in ogni istante della propria vita allo stesso modo e rispondere alle domande della società con alcune proposte molto semplici dirette spesso propagandistiche illusorie che durano lo spazio di un giorno per passare il giorno dopo a un'altra proposta illusoria propagandistica e diretta è sempre poco efficace io credo che se c'è un momento di rottura di questa pandemia oltre a aver messo al centro i temi della protezione della salute dei cittadini e l'importanza della gente e dell'istruzione ci sia anche l'importanza o cominciare la riconsiderazione del tema della seduta della competenza e dello sguardo un po' più lungo della politica se Salvini Trump Bolsonaro non hanno funzionato perché in questa fase avevamo bisogno di politici che ci prendessero per mano in una maniera seria e rassicurante e ci aiutassero a superare questa fase e a traghettare qualcosa che era inaspettato misterioso che ci faceva paura e generava tensione nelle famiglie nelle persone e nella società tutto questo alcuni leader di questo genere che in gran parte sono i leader della nuova destra mondiale non lo hanno saputo fare ed è anche il motivo per cui alla fine un personaggio una personalità un po' rassicurante un po' da padre di famiglia che ogni giorno compariva in televisione ci dava le sozioni perfino come stringerci la mascherina davanti alla bocca come comportarci durante la nostra giornata ci sembrava utile però io credo che questa è una fase transitoria della nostra politica ora quel padre di famiglia quei padri di famiglia come sono state anche molti dei governatori che ci hanno rassicurato indirizzato aiutato in qualche modo hanno gestito bene l'emergenza hanno un compito in mano quello di rimettere in carreggiata e rimettere in moto una società come quella italiana che non aveva pochi problemi prima di questa pandemia tutti i nodi storici della società italiana in termini di competitività di formazione di innovazione di sistema sanitario sono tutti lì ci sono tantissimi soldi che potrebbero arrivare dallo sforzo che l'Unione Europea che in questo momento ha fatto uno scatto rispetto al passato mette in campo mi sembra che il modo in cui tutto sta andando avanti sia poco strategico poco attento alle priorità e poco efficace mi sembra che ognuno cerchi ancora di piantare bandierine ideologiche ad esempio quella del MES è la classica dimostrazione di una bandierina ideologica senza progettare quelle 5-6 priorità che servono a dire al paese c'è un futuro e c'è una prospettiva se il nuovo centro-sinistra può nascere può nascere solo da questa capacità o anche il nuovo centro-destra se non lo sa fare secondo me non nascerà nulla di buono per il paese chiaro allora vado da Giuseppe De Bellis che è il direttore di Sky TG24 mi pare che ci siano vari temi intanto se si tratti di una sospensione cioè se la pandemia crei un clima di sospensione e quindi qualcosa che poi però è destinato a lasciare il passo a riaffiorare di una serie di temi che ora sono scesi nella scala delle priorità come segnalava Maurizio Molinari però che diceva anche Fontana restano lì per esempio i migranti e poi però c'è un'altra diciamo distinzione un'altra linea di faglia che è quella governatori stato centrale lo abbiamo visto in modo molto forte in America ma soprattutto qui tra l'altro qui con una specie di viene alla luce piano piano secondo me in tutti i retroscena la desecretazione dei verbali tutti questi meccanismi che riguardano i giorni difficili delle decisioni difficili da prendere però viene fuori che forse un po' si precostituiva anche il terreno dello scarico delle responsabilità anche precostituito forse tra governo tra Presidente del Consiglio in particolare e governatori delle regioni mi sembra che questo sia un ulteriore elemento trasversale in un certo senso poi naturalmente c'è la questione del Movimento 5 Stelle e quella c'è se sia destra-sinistra se queste bandierine ideologiche che ricordava Fontana sono come dire il residuato tutto sommato di questa di questa questione destra-sinistra o populismo-antipopulismo invece Buonasera a tutti grazie anche da parte mia Dogliani l'ho già fatto ieri lo ripeto oggi è una bella piazza come diceva Maurizio Molinari ed è un piacere essere qui partire da quest'ultima riflessione in realtà mi piacerebbe ribaltare la domanda proprio al nostro pubblico perché una cosa ce ne sono state dette tante e alcune secondo me hanno molto senso però manca secondo me un elemento nella riflessione ovvero l'identità dell'elettorato cioè che cosa sente l'elettorato rispetto a se stesso l'elettorato si sente di destra o di sinistra l'ultima volta che è stato fatto un sondaggio strutturato su questo tema poco più di un anno fa un sondaggio del professor Dallimonte l'80% degli elettori avevano un'idea molto chiara dell'essere di destra o di sinistra per cui chi si sentiva di destra affermava di essere di destra e chi era di sinistra affermava di essere di sinistra questo secondo me il dato più interessante avveniva anche all'interno degli elettori che dichiaravano di essere il movimento 5 stelle cioè la compressione dell'elettorato 5 stelle del consenso dei 5 stelle ha fatto sentire gli elettori dei 5 stelle più vicini riducendosi la quota è rimasta quella quota più identitaria alle istanze della sinistra per cui secondo me quando affrontiamo i temi ideologici e immaginiamo come i partiti e come gli schieramenti vedono loro stessi e come interpretano ciò che li avvicinerà o meno agli elettori dobbiamo pensare anche cosa gli elettori si aspettano da quei partiti però pertanto credo che questo prescinda anche dai temi che soprattutto la pandemia ha portato l'attenzione ci sono la velocità con cui il consenso rispetto ai sussidi è arrivata non è arrivata soltanto la velocità non c'è stata soltanto da sinistra che era ipotizzabile c'è stata anche in parte da destra il dibattito su gli investimenti o le invadenze dello Stato nel futuro è un dibattito che c'è tanto a sinistra quanto a destra per cui i temi spesso prescindono anche quelli che saranno il futuro dell'entità degli schieramenti che secondo me in una misura o nell'altra resteranno questi temi prescindono anche da ciò che gli elettori sentono rispetto alla loro identità per cui quando saranno ridefiniti i concetti i contorni e secondo me questo processo sarà un processo estremamente lungo perché per venire alla tua domanda non credo che alcuni dei temi che possono definire realmente la differenza tra destra e sinistra uno dei quali sicuramente è l'immigrazione saranno temi che riaffioreranno con decisione in maniera indipendente dalla pandemia a breve cioè tutto quello che vivremo nei prossimi mesi nei prossimi anni sarà comunque collegato alle conseguenze del covid-19 in questo io sono d'accordo con Maurizio siamo entrati in un'era in cui tutto quello che affronteremo da qui a una data indefinibile sarà in un modo o nell'altro riferibile a quello che abbiamo vissuto in questi mesi e quello che vivremo nei prossimi mesi per cui quando si andranno a ristabilire diciamo l'ordine naturale delle cose sui temi che fanno la differenza tra uno schieramento e l'altro credo che la commistione delle opinioni e anche del vissuto che c'era stato in questo periodo sarà determinante per far sì che questa definizione sia vera o fluida tra destra e sinistra il tema che poni tu su centralismo e invece regionalismo comunque un'istanza di maggiore indipendenza chiamiamola federalismo idealmente è secondo me un altro tema centrale che probabilmente anche qui sfugge alle categorie della tradizione ma che covid ha sbattuto in faccia con grandissima forza e l'ha fatto a prescindere proprio dalla vicinanza o meno dei governatori rispetto al governo centrale abbiamo visto uno scontro ai massimi livelli non soltanto tra un governo in questo momento a guida giallorossa e le regioni guidate dal centro-destra l'abbiamo visto altrettanto importante anche nelle regioni che teoricamente avrebbero dovuto essere allineate al governo Luca dici De Luca ma anche Bonaccini all'inizio quindi c'è stato c'è un'identità localista che si è affermata e che secondo me più col passare del tempo continuerà ad affermarsi sempre di più e il fatto che i governatori abbiano un consenso crescente rispetto anche ai leader di partito nazionali secondo me è un indice della rilevanza che il governo di un territorio continuerà ad avere nel futuro del nostro paese post pandemia per cui quello che stiamo per vivere nelle prossime elezioni non credo che sarà tanto centrale per il futuro del governo ma sarà centrale per la definizione del peso che le regioni o alcuni governatori potrebbero avere nell'equilibrio dei rapporti con il governo centrale chiaro Mario Mario sei chi vuole rapidissimo è il tuo qui siamo tra velocissimo perché questo è un blitz un blitz un blitz è tua sorella il contrapunto è che tutto questo sta accadendo nel momento in cui si tagliano i parlamentari tanto per dirne una cioè l'esaltazione del territorio e quindi ancora una volta come vedete dell'identità arriva nel momento in cui tu stai dimezzando la rappresentanza e non hai rimesso a posto l'assetto istituzionale questo è un altro tema guarda caso di chi del PD scusate allora vado da Stefano Feltri che è direttore del domani come sapete domani è la nuova testata poi ne parleremo qui siamo in un certo senso nella casa di questa testata Stefano Feltri vorrei chiedere a te lasciando poi Andrea Vianello il compito di passare alla parte proiettiva poi mi aiuti Andrea Stefano tu hai anche scritto un libro tra l'altro sul populismo democratico vorrei chiederti sul sovranismo e su questi elementi ma insomma vorrei chiederti però abbiamo raccolto tante tante riflessioni alcune sono come dire in contraddizione ma anche vere contemporaneamente come succede per le questioni complesse vorrei chiederti come come la vedi e come la vede un direttore giovane con un giornale che già dal nome guarda futuro grazie Alessandra grazie a tutti voi di essere qui soprattutto perché voi siete al sole noi siamo all'ombra quindi per voi è più difficile che per noi allora la pandemia da un certo punto di vista è vero che è stato uno spartiacque ma non tutto quello che è successo prima è sparito noi siamo reduci da un'ondata populista che per semplificare un po' è cominciato nel 2016 con le vittorie di Trump e il referendum sulla Brexit il populismo era prima un fenomeno che era nei paesi in via di sviluppo in Sud America ed è arrivato nei paesi ricchi e ci è arrivato in una versione un po' diversa ci sono due tipi di populismo noi in Italia li abbiamo visti tutti e due c'è un populismo diciamo così di sinistra che è quello che ha come priorità la disuguaglianza e c'è un populismo di destra che è quello che ha come priorità l'identità o se volete c'è un populismo che se la prende con una minoranza che è l'elite l'establishment e un populismo che se la prende con un'altra minoranza che sono gli immigrati i rom gli omosessuali che scegliete voi noi in Italia abbiamo avuto entrambi al governo e l'Italia è indicativa perché questa coalizione è esplosa perché abbiamo scoperto che nella nostra democrazia un populismo diciamo è praticabile e un altro no il populismo di sinistra in Sud America è sempre finito con l'inflazione a tre o quattro cifre la bancarotta dello Stato il fondo monetario e poi si ricominciava il ciclo il populismo di destra ha la vita più facile se te la prendi con gli immigrati non costa quasi niente hai consenso non risolvi il problema anzi se lo peggiori come ha fatto Salvini con i decreti sicurezza ti aumentano pure i voti il populismo di sinistra nostro e i 5 stelle si ha fatto reto di cittadinanza ha fatto alcune cose ma alla fine è stato ricondotto nei ranghi non è riuscito a fare a scardinare il sistema e tutto sommato alla fine cosa è diventato una versione un po' più grossa di rifondazione comunista nel senso nei rapporti con il centro-sinistra la parte un po' irrequieta di una coalizione di centro-sinistra il populismo di destra è ancora lì e le ragioni per cui c'è il populismo di destra rimarranno perché la globalizzazione non finisce con il coronavirus le disuguaglianze non vengono appianate ma esplodono e ci sono alcune disuguaglianze che si combattono nei paesi ricchi cioè si spinge per una maggiore redistribuzione sacrificando un po' diciamo di business e ci sono delle disuguaglianze diciamo così che invece la destra piacciono che vuole addirittura aumentare cioè la destra esclude persone dalla cittadinanza per concentrare le risorse e la vita democratica su una minoranza il populismo dei 5 stelle era un populismo o è un populismo che ritiene di rappresentare l'unità cioè tutti le persone normali contro una minoranza poi identificata diciamo noi bocconiani o chi volete voi il populismo di destra è un populismo maggioritario cioè non pretende di rappresentare tutti dice noi siamo italiani siamo bianchi siamo diciamo mediamente ricchi quindi noi siamo il popolo e tutti gli altri non lo sono ecco questa destra rimarrà e diciamo se volete un po' il campo libero perché il populismo di sinistra ha fallito ha fallito negli Stati Uniti dove Bernie Sanders si è dovuto ritirare dalle primarie e dove Alexandria Ocasio-Cortez ha parlato per un minuto alla convention del partito democratico quel populismo lì è stato sconfitto anche dal covid l'altro populismo quello diciamo che si declina nella direzione sovranista radicale di destra rimane e questo però non è detto che sia una cattiva notizia da un certo punto di vista perché spinge noi e dico noi in quanto in quanto giornalisti ma anche in quanto noi questa nascente comunità intorno al giornale che lanceremo dal 15 settembre a rispondere a delle domande che soltanto la sinistra in senso molto lato si può porre cioè intanto c'è una battaglia di conservazione di difesa il populismo quando va al potere fa dei danni alla democrazia per anni la letteratura dei politorgi si è interrogata se il populismo era un anticorpo nella democrazia che veniva prodotto quando alcune cose funzionavano male e spariva quando aveva fatto il suo dovere o se invece era soltanto c'è questa espressione che a me piace l'ospite ubriaco quello che sta a tavola fa un po' di danni ma tutto sommato è innocuo invece abbiamo visto che i populisti al governo fanno dei danni tendono per esempio a cambiare le costituzioni questo non lo dico solo per l'Italia tutti i partiti populisti al governo hanno cercato di cambiare la costituzione in Polonia per esempio hanno soppresso l'autonomia della magistratura ma l'hanno fatto anche in Slovacchia l'hanno fatto in altri paesi Trump a modo suo ha cercato di cambiare gli equilibri tra potere esecutivo e potere legislativo quindi ci sono delle democrazie più fragili quindi la prima domanda per chi non vuole cavalcare il flusso del populismo di destra è la prima battaglia scusate è difensiva cioè dobbiamo difendere le istituzioni democratiche la seconda battaglia è inclusiva perché il populismo di destra esclude racconta che c'è un popolo che per stare bene per sopravvivere deve sopprimere deve sottomettere non sopprimere per fortuna sottomettere un'altra parte di società a persone che vivono intorno a noi perché sì ci sono quelli che arrivano con i migranti ma poi ci sono tutti quegli altri a sinistra resta la grande occasione di includere di portare dentro energie democratiche se guardate questo palco per esempio noterete che siamo quasi tutti diciamo maschi bianchi anche se siamo di generazioni diverse tranne Alessandra ovviamente ma c'è in Italia in tutto il mondo c'è una questione che è una questione di sinistra non è una questione di destra ma per una questione proprio cioè devi portare dentro energia nel processo democratico e una delle energie che è esclusa è l'energia diciamo femminile un'altra energia che c'è in Italia ma come c'è negli Stati Uniti è l'energia di persone che non sono uguali a noi per background per cultura eccetera semplicemente perché sono nati in Italia cresciuti in Italia ma vengono da un altro percorso sono genitori di un altro paese noi li escludiamo tranquillamente dal dibattito democratico non ci sono non ci sono non hanno voce ma ci sono nella realtà non è un caso che ci sono i rapper diciamo così nuovi italiani non abbiamo neanche una paura per definirli insomma Mahmood Galli eccetera e non ci sono non dico direttori di giornale ma non ci sono neanche così personalità pubbliche in campo diciamo nel nostro campo nell'establishment ecco abbiamo questo enorme potenziale e non è un caso che sta scoppiando adesso la questione ambientale che non è più la questione anche lì di retroguardia difendiamo lo dico qui nella terra di Carlo Petrini non è più soltanto valorizziamo e proteggiamo quello che abbiamo che è una grande tradizione senso lato dell'ambientalismo ma anche della sinistra italiana c'è un'altra questione che si pone un'equità che difende l'equità non solo orizzontale cioè non solo tra chi c'è adesso ma anche verticale tra generazioni e questa è una grande battaglia che è solo di sinistra non può essere una battaglia di destra perché la destra ti pone una questione di qui e subito di noi contro loro e quindi in qualche modo più semplice per la prima volta dopo gli anni della sbornia populista stiamo riscoprendo che la democrazia liberale è democrazia perché comanda la maggioranza ma è liberale perché ci sono anche le minoranze e devono avere dei diritti e devono essere tutelati è facile essere democratici è un po' più complicato essere democratici e liberali insieme queste sono battaglie di sinistra è una sinistra diversa e qui chiudo collegandomi all'intervento iniziale molto interessante di Massimo Giannini la destra e sinistra sono sparite anche perché c'è stato detto che c'era un solo modo di fare le cose per semplificare io sono europeista convinto ma la commissione europea non è né di destra né di sinistra di fronte a un approccio alla politica che non era né di destra né di sinistra si è sviluppata una reazione quella populista che non era né di destra né di sinistra era tutte e due le cose insieme adesso questa contraposizione è finita e torniamo a un'altra fase torniamo a un'altra fase in cui bisogna fare delle scelte arrivano i soldi del recovery fund o facciamo 100 miliardi di debito nuovo per fare i decreti anticrisi ci sono dei dilemmi molto concreti vogliamo conservare il paese che era e questo significa dare soldi a chi già li aveva sostanzialmente e tenere in piedi le imprese che già c'erano tenere in piedi quella società o vogliamo forzare la transizione in una direzione diversa più equa più ma anche diciamo più orientata alla crescita sono cose molto concrete che vanno dal dire ma noi vogliamo sussidiare vogliamo riportare la gente in ufficio perché ci preoccupiamo dei bar che non hanno più i clienti con la pausa pranzo o vogliamo spingere in una direzione in cui all'improvviso a sorpresa i lavoratori escono dal 900 e si trovano in una condizione in cui sono proprietari del loro tempo in cui lo smart working pone un milione di problemi anche di disuguaglianze eccetera ma ti restituisce la vita che avevi perso nella tua dimensione di lavoratore dipendente ecco queste sono scelte molto concrete vogliamo questo governo per esempio a luglio questo luglio in piena pandemia ha confermato una misura decisa nella scorsa legge di stabilità in cui ha dato 5 miliardi strutturali all'anno a lavoratori dipendenti che già prendevano gli 80 euro di Renzi o non li prendevano di poco perché? Boh così sono misure in cui noi spendiamo decine di miliardi senza una visione di paese dando soldi a gente che già li ha tutti noi su questo palco siamo diventati più ricchi durante la pandemia perché abbiamo continuato a prendere lo stesso stipendio ma abbiamo smesso di andare al ristorante a teatro e in vacanza il nostro reddito la nostra ricchezza è aumentata il potere d'acquisto del nostro reddito è salito eppure ci troviamo in via diretta o indiretta a essere beneficiari di misure anticrisi questo è una scelta di destra non c'è un altro modo per dirlo il governo ha fatto delle scelte nella gestione della crisi di destra molte la maggioranza poi ha fatto anche il reddito di emergenza ma l'ha fatto così complicato che il take up cioè la richiesta è stata bassissima un sacco di persone che avevano bisogno di quei soldi non li hanno chiesti però i soldi dei parlamentari parentesi diciamo populista se volete ma è in questo senso cioè alcune misure andavano a beneficio anche di persone che non li dovevano prendere quei soldi quindi destra e sinistra sono tornati la pandemia ha fatto un grande reset ma ci pone davanti delle scelte molto concrete da fare adesso da fare già al referendum ma anche noi come cittadini anche fuori dal semplice momento elettorale quindi è molto interessante addirittura diciamo per certi aspetti esaltante fondare un giornale che si muove in quell'area di sinistra di centro-sinistra in un momento così perché sta tornando rilevante dieci anni fa era un'altra il clima era un altro lo spazio adesso è tornato a essere decisivo quindi sarà molto interessante farlo ma i giornali hanno senso solo se ci sono i lettori quindi spero che sarà interessante anche per voi allora vado da Andrea Vianello so che sotto le campane so che ami poco le questioni più come dire teoriche però io spero di strapparti comunque una la tua no l'hai detto prima l'hai dichiarato rivelavo delle chiacchiere di retropalco però vorrei chiederti ovviamente vorrei strapparti una tua analisi rispetto al tema che abbiamo comunque approfondito in tutti gli interventi e poi chiederti anche specificamente intanto facendo un po' l'avvocato del diavolo rispetto a quello che diceva Stefano Feltri ma poi è vero che il populismo di sinistra a differenza di quello di destra non ha scardinato le cose perché ne cito alcune e insomma in realtà c'è stata una almeno una proroga dell'emergenza e un uso dei DPCM dei decreti del Presidente del Consiglio che hanno fatto arricciare il naso autorevoli costituzionalisti e parlato di strappi cioè un taglio dei parlamentari con un referendum assolutamente legittimo e democratico naturalmente che fa parte delle procedure chiesto alle forze politiche però insomma che provocherà una serie di strappetti e di cose del genere e insomma non lo so se la sinistra sulla questione di pochi giorni fa è questo Parlamento anzi è questo governo che ha introdotto una modifica nelle regole che sulla durata dei vertici dei servizi segreti per la prima volta per decreto e con una fiducia insomma non lo so va bene intanto buon poveriggio a tutti sono stato qua stamattina però lo ridico sono molto contento di essere qui a Togliani un'altra volta non era non era poteva non succedere e quindi sono due volte felice ecco allora questo è un applauso meritatissimo basta se parlo non benissimo sapete forse qualcuno sa perché quello che parta per ultimo ha dei problemi perché ci sono tante cose che più o meno abbiamo detto tutti io non credo che il governo come ha detto Stefano ha fatto delle cose di destra io penso che la gestione della pandemia che è stata sicuramente un problema molto importante e che sarà nello stesso per tanto tempo ha portato a una divisione tra scienza e antiscienza quindi questa nostra destra e sinistra che è connatunare alla nostra essenza perché ecco Massimo ha detto che non sono come Mario secondo me ha detto cose molto più vicine a me di quel 20% però io e Massimo abbiamo fatto una battaglia insieme giornalistica qualche anno fa e io sono molto legato a Massimo Giallini per la nostra balla di qualche anno fa che adesso non c'è più però insomma è stato un momento bello nella nostra carriera allora dico adesso proprio in queste ore ci stanno delle persone che stanno in piazza contro le mascherine di destra che dicono di essere di destra perché è vero che le persone dicono più facilmente di essere di sinistra o di destra ma invece io credo che anche i politici non dicono facilmente di essere di destra o di sinistra nel senso che io credo che anche le persone di destra non lo vogliono dire ci sono partiti nettamente di destra che dicono che non è vero che sono di destra quindi non credo che sia solo un problema della sinistra un problema di identità io credo che fanno due lavori diversi e la sinistra ha un lavoro più difficile perché coltiva il dubbio mentre la destra no è più facile essere di destra fare campagna anezionare di destra perché ci sono solo certezze per loro mentre invece la sinistra ha il dubbio e il dubbio è complicato perché la sinistra non riesce in questo momento ad avere un'identità perché è più difficile perché il mondo è complicato e se invece tu lo racconti in modo più netto è più facile avere consenso e anche identità il problema è che anche la scienza in queste settimane si è divisa noi abbiamo avuto negli ultimi settimane virologi che sono diventati ormai star della tv che hanno cambiato completamente posizione e sono alcuni posseremmo dire di destra solo perché dicono che il virus in realtà non è più così forte non è così cattivo perché non è così importante prendere tutti i provvedimenti e dall'altra parte una scienza che sembrerebbe invece un po' più di sinistra in realtà è quella che ti dà le regole quindi pensate che la cosa della libertà in realtà sono dalla parte e dall'altra quindi c'è un pezzo della nostra identità proprio di cittadini in Italia che è proprio divisa tra destra e finistra secondo me una cosa di cui abbiamo parlato ha detto Stefano però secondo me dovremmo dire un po' di più sul futuro della destra e soprattutto della sinistra è proprio l'ambiente l'ambiente signori questo virus ci ha portato davanti agli occhi il problema enorme del futuro i nostri figli chi li ha sa benissimo che per esempio i temi dell'ambiente sono molto sensibili eppure la politica non ce l'ha diciamo la verità anche la parte sinistra l'ambiente non lo trova più noi abbiamo i verdi sicuramente grande rispetto a una formazione che ancora esiste che lotta diciamo da tanti anni in quei principi però alla fin fine una vera battaglia di ambiente un partito che mette l'ambiente il futuro dei nostri figli l'alimentazione esattamente gli allegolamenti intensivi sono cose molto importanti che non troviamo nella genta della politica siamo l'unico paese europeo che non ha un grande partito verde e non abbiamo ancora trovato a parte ripeto il verde con cui sappiamo bene alcune battaglie un vero leader verde io credo che quello sarà il futuro della sinistra italiana cioè ci sarà una ripresa di quegli ambienti di quelli temi ambientali che adesso insomma non ci sono ma non ci sono neanche tra di noi cioè alla fin fine tutto questo nostro dibattito l'ambiente non l'abbiamo tirato fuori se non alla fine Stefano noi pensiamo a cose giustamente non sarà che la pandemia invece ha anche frenato l'ambiente perché tutti noi che eravamo lì pronti a utilizzare uno stesso pezzo di carta invece cambiamo e dobbiamo cambiare più volte la mascherina e siamo costretti a vedere degli spot che dicono mi raccomando mettetela in indifferenziata ma la produzione di oggetti di plastica usegetta cioè forse la pandemia anche su questo ha avuto in realtà un effetto non in sintonia con il mondo di Greta però appunto abbiamo avuto un'emergenza cioè adesso stiamo vivendo un'emergenza dobbiamo capire ma perché è arrivato questo virus cioè perché comunque il mondo a un certo punto ci sta dicendo che forse le cose devono cambiare allora io in questo punto questa nostra Italia penso che al di là di tutte le altre battaglie importantissime che ci sono una sinistra vera deve riprenderlo quel tema deve raccontare che possiamo cambiare questo mondo e darlo ai nostri figli un po' diverso da quello che c'è adesso allora io lo so mi hanno fatto tutti i segni abbiamo finito il tempo però avevo promesso una cosa proprio un flash sull'attualità più stretta abbiamo detto che oggi è tornato a parlare il Presidente del Consiglio che tra l'altro ha risposto ad alcune domande su Draghi anche siccome parliamo di destra sinistra di abbiamo parlato di tecnici di come? di governo torneremo scusa non lo dobbiamo fare potrebbe essere un paradosso allora io vorrei proprio un flash se ognuno parla un minuto in sette minuti riusciamo a dire questo ma ci terrei ad avere un giro di opinioni di autorevoli direttori su questo punto allora comincio arrivato nell'ordine così non facciamo confusione riparto da Massimo Giannini ma sì mi facevi vedere io non ci avevo fatto caso mi facevi vedere prima le dichiarazioni del nostro Presidente del Consiglio su Draghi mi hanno subito ricordato in negativo purtroppo devo dire le parole sorprendenti che ha usato Di Maio dopo aver incontrato a sua volta sorprendentemente Draghi prima dell'estate Di Maio in un'intervista ha detto sì Draghi mi ha fatto una buona impressione ecco insomma se vogliamo una cifra del tempo che viviamo forse l'abbiamo avuto da questa dichiarazione con tutto il rispetto per il Ministro degli Esteri anche della Mer che ha detto la stessa cosa di Angela sì sì toccherà il Papa la prossima volta anche il Papa gli ha fatto una buona impressione però lo dico con una battuta però è evidente che la politica ha una FIFA blu di Mario Draghi in particolare io non ho una FIFA blu di Mario Draghi ho una grande strima di Mario Draghi però aggiungo solo una cosa mi chiedevi e ci chiedevi una pillola la pillola è questa noi la stagione dei tecnici l'abbiamo già vissuta in più di un'occasione perché prima abbiamo avuto Ciampi poi abbiamo avuto Monti con Ciampi andò bene con Monti un po' di meno non per colpa sua dobbiamo dire ma era un altro ciclo un'altra era geologica potremmo dire una delle tre pandemie delle quali faceva riferimento Maurizio la grande crisi finanziaria se torniamo ancora una volta ai tecnici io credo che al di là del valore delle persone siamo ancora una volta alla resa della politica e viceversa ritengo che mai come in questo momento anche se abbiamo non solo in Italia ma nel mondo un drammatico problema di leadership è il momento in cui la politica deve assumersi le sue responsabilità e deve metterci la faccia come un modo un po' corrivo diciamo in questo periodo quindi grazie Draghi per tutto quello che ha fatto e che farà magari un giorno diventerà presidente della Repubblica lo spero ma vorrei essere governato da una persona che eleggo e alla quale posso chiedere conto allora Mario Seichi però allora è Conte deve essere eletto anche Conte eh sì anche Conte la conseguenza ecco la conseguenza prendo la palla al volo e la schiaccio la conseguenza delle cose che ha detto Massimo Giannini è che Conte non va bene perché non è eletto non lo prescrive certo la nostra Costituzione è addirittura un premier che viene da due esperienze contrapposte cioè ieri avvocato del popolo oggi populista in pochette mettiamola così e domani non si sa cioè se dovessimo definirla secondo i canoni storici ebbene questa è un'operazione passatemi il termine con tutto il rispetto per tutti ma si chiama trasformismo cioè depretis ora posto che non è così in realtà e posto che è un momento di straordinaria emergenza e dunque tu hai avuto prima un governo giallo-verde io l'ho chiamato il governo Frankenstein per intenderci e adesso un'altra alleanza spuria è chiaro che ci dovrà essere un passaggio elettorale e in questo passaggio elettorale anche non candidato perché non è necessario questo e io la vedo difficile che Draghi non abbia un ruolo cioè Draghi ha due caselle a disposizione quando entrerà veramente in campo perché è la storia che lo chiamerà non è una sua volontà ok o fa il Presidente del Consiglio o fa il Presidente della Repubblica da lì non si scappa un Paese ha le sue risorse e pensare che Draghi che ha ancora anni da spendere stia in panchino alla finestra a guardare io la vedo molto difficile francamente allora Maurizio Morinari ciò che conta credo sia ciò che Draghi sta dicendo in queste settimane più che Draghi persona in sé il pensiero di Draghi in estrema sintesi è il seguente l'Italia ha di fronte a sé due dati può avere con 208 miliardi del recovery fund una straordinaria possibilità di ricostruzione o può con un debito al 180% imprigionare le prossime generazioni impedendo la loro crescita come farà il governo italiano a prescindere da chi lo guida accogliere l'opportunità dei 208 miliardi evitando la trappola del 180% bisogna riconoscere a Draghi di essere stato il primo a dire con grande chiarezza qual è la sfida di fronte al Presidente del Consiglio speriamo che qualcuno lo ascolti direttore Fontana direttore Fontana la prima che la frase di Conte non era sicuramente una frase gentile nei confronti di Draghi perché dire che è stanco è come dire che non ha la forza le risorse per essere una personalità che può arrivare in campo in Italia con la dovuta forza io credo che Draghi abbia risposto a una proposta che era un po' come vendere il Colosseo quella di che l'Italia potesse indicare il prossimo Presidente della Commissione dopo sette anni di BCE con una frase di Garbo e dimostra quanto Conte teme la personalità Draghi per una seconda rapidissima ha molto ragione Molinari Draghi ha una visione esatta di come o perlomeno ben definita di come dobbiamo affrontare il nostro futuro e io credo che all'Italia personalità che hanno saputo gestire la Banca Centrale Europea nel modo in cui l'ha gestita Draghi che abbiano una visione del futuro servano moltissimo poi vedremo in quale ruolo e vedremo rispetto alla collocazione dei partiti in che modo questo potrà avvenire ma io penso che sia sicuramente una personalità che non può restare in panchina De Bellis condivido il pensiero del direttore Fontana sul fatto che abbiamo bisogno di personalità come Mario Draghi e ogni volta che negli ultimi mesi direi anche negli ultimi anni Mario Draghi ha parlato la politica italiana in qualche modo ha cominciato a preoccuparsi a volte si preoccupavano alcuni ora si preoccupa secondo me un po' più il PD rispetto a quanto accadeva in passato penso che sia molto difficile che in questo momento Draghi sia un potenziale presidente del Consiglio credo che neanche lo voglia e penso che invece sia che molti lo vogliano come presidente della Repubblica sarà un processo estremamente complicato perché quando anche venga e secondo me sarà identificato come il candidato inevitabile il candidato perfetto per la presidenza della Repubblica anche questo Parlamento perché verosimilmente sarà questo Parlamento eleggere il presidente della Repubblica la strada comunque per il Quirinale sarà difficile il che non significa che questo è un bene per il Paese ma purtroppo la politica non sempre fa il bene del Paese perché forse tutti o tanti lo vogliono ma sicuramente non i tantissimi che vorrebbero andare al Quirinale Stefano Feltri su Draghi ma credo intanto che Conte abbia detto una cosa falsa nel senso che Draghi era la BCE quando c'è stata la scelta del presidente della Commissione non era plausibile che se ne andasse soprattutto non era plausibile che se ne andasse come candidato dell'Italia alla Commissione non è mai stato nell'ordine delle cose tanto che l'Italia ha formalmente proposto Giancarlo Giorgetti e questo ha praticamente aperto una crisi di governo quando poi la Lega non ha anzi ha aperto una crisi di governo quando la Lega non ha votato poi la Commissione di Ursula von der Leyen quindi credo che Conte abbia detto una cosa falsa detto questo Draghi ha due scelte una andarsene in America andare per esempio ad Harvard come fece Lorenzo Binismaghi dopo la BCE o andare a lavorare per un qualche grande fondo di investimento come fece Tim Geithner della Federal Reserve alla fine del mandato e così chiamarsi un po' fuori oppure rimanere in questo forse oppure rimanere in questo ruolo di candidato a tutto ma come diceva forse adesso Giuseppe De Bellis non è plausibile che faccia il Presidente del Consiglio in questo Parlamento perché l'unico scenario sarebbe una maggioranza più larga una maggioranza più larga vuol dire avere dentro Salvini o Lameloni non è sensato che Draghi sia il Premier di un governo di una maggioranza che si allarga Salvini o Lameloni potrebbe fare il Presidente della Repubblica ma anche lì non è detto è sicuramente una risorsa ma noi guardiamo a Draghi con gli occhi diciamo della politica italiana quella è stata la BCE ha salvato l'euro è un po' diciamo per certi aspetti come Barack Obama dopo che hai fatto il Presidente degli Stati Uniti ma cosa potrai cosa puoi fare dopo un po' la stessa cosa per Draghi se ci saranno le condizioni non si tirerà indietro sicuramente ma queste condizioni sono complesse è un personaggio difficile da inserire cioè non è conte ecco da tanti punti di vista Andrea Vianello io non lo so però penso che tutti noi che siamo qua lo racconteremo e lo sapremo vedendo che cosa succederà è chiaro che la politica ha già una volta lasciato lo spazio ai tecnici in un momento che non poteva fare diversamente mi sembra molto difficile che lo faccia un'altra volta però ripeto quello che succederà sicuramente in questi giornali soprattutto anche col nuovo giornale domani che è molto importante che ci sia un nuovo giornale in Italia è una cosa bella per la nostra democrazia e quindi auguri domani sicuramente saremo qui a raccontarlo grazie grazie a voi che ci avete seguito pazientemente diamo appuntamento al dibattito successivo e poi appunto alle 19 parleremo di domani con i protagonisti ma intanto grazie e grazie a tutti i direttori grazie Alessandro un applauso grazie a tutti i nostri spettatori 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 grazie a tutti i nostri spettatori